Sono diretta e sono qui a vendemmiare, si vede, vendemmio per il mio stipendio del mese di settembre perché il mio lavoro durante questi mesi è un po carente. In realtà durante l'anno faccio l'attrice e l'educatrice, mi occupo di teatro e di bambini, unendo le due cose più che posso. E ultimamente unendole anche alla natura, inventando percorsi nel verde che mettano insieme i bambini, il teatro, la manipolazione degli elementi. E questo è quello che più mi piace. E anche l'esperienza in vigna, star sotto il sole tutto il giorno, rimette in contatto con la natura quegli elementi in maniera forte, devo dire, abbastanza crudele a seconda delle ore del giorno. Però è un'esperienza che si riallaccia alla tradizione e poi a seconda delle aziende in cui si lavora ha questo sguardo al presente e al futuro perché secondo azienda la gestione anche della vendemmia è una cosa particolare da conoscere, è un mondo da scoprire devo dire, anche l'incentivo che ognuno dà, ogni imprenditore dà a questa risorsa che può avere. E teatro e la natura per me sono le due cose su cui vorrei fondare i prossimi miei giorni. Quindi chissà, magari un giorno mi inventerò un laboratorio di vendemmia per bambini raccontando nel frattempo storie sul vino o su che cosa, non lo so. Nel frattempo vado avanti.